fabrizio pronto prepara la macchina ma guidata da voi pagione si vostra moglie viene con voi no l'accompagnatura a casa di suo padre finché la situazione non è sicura va bene calo dove apollonia rincia macchina mi vuole fare una sorpresa vuole guidare da sola qui già non diventerà una brava mogli amere gana ora vai a pigliare bagagli fabrizio ma dove vai micheluzzo aspettami laura vengo da sola fino da te no no a bommonia no 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 Grazie a tutti.